Buongiorno a tutti, bentornati sul mio canale, sono Orso. Iniziamo oggi una nuova serie di video, probabilmente li pubblicherò a metà settimana o il lunedì, vediamo un attimino la scaletta editoriale. Si tratta più che altro di test di prodotti per la campagna e per il pollaio. Ero curioso, sono io il primo che voglio utilizzarli, che voglio provarli e magari nella stessa occasione potete decidere su quale prodotto orientarvi, se un prodotto come questo fa il caso vostro o meno, spendere di più, spendere di meno, non spendere niente come è successo con la porta del pollaio, quella in plastica dello scorso video. Iniziamo subito, dai, allora forbice elettrica da potatura, è uno dei modelli base di Geotech, questo video è stato realizzato in collaborazione con AgriEuro che mi ha gentilmente fornito il prodotto in test, poi ovviamente lo dovrò restituire. A fine video, e poi se vi interessa questo tipo di articolo, proprio queste forbici qua, o qualcosa della stessa categoria, vi darò poi le istruzioni per risparmiare ancora qualche soldo. Allora, vi arrivano due pacchi, se comprate questa. Questa è un kit di guanti, questi sono per lavorare a bassa temperatura, tenete conto che le potature si possono fare anche d'inverno, io adesso li proverò poi sugli alberi fuori, fa freddo, e anche sugli ulivi, dove faremo poi la prova vera e propria, perché gli ulivi hanno un legno molto duro, quindi se funziona lì, funzionano dappertutto. Quindi dicevo, un paio di guanti per lavorare al freddo, un paio di guanti per lavorare di fino, perché sono molto aderenti alla pelle, una spatolina che serve per affilare la lama delle forbici, e a mio avviso utilissimo un grasso multiuso per ingrassare i meccanismi delle forbici, ma anche la lama, e questo ovviamente lo potete usare dappertutto. Solo questo, il negozio, meno di 8 euro, 10 euro, non lo si paga. Allora, come imposto il test? Quello che c'è da dire lo dico, a me interessa poco che me l'abbiano prestato, me l'abbiano regalato, che l'abbia acquistato, quello che vi devo dire ve lo dico, poi valutate voi, in base alle altre recensioni che vedete in giro, le altre pareri degli utenti, se fa per voi o meno. Eccola qui. Allora, abbiamo il manuale di istruzioni, e anche in italiano l'ho già aperto. Abbiamo un set di chiavi, chiave esagonale, chiave a brugola e pompetta per ingrassare l'interno dei meccanismi. Attenzione, io questo l'ho già presi, l'utilizzati, ci ho giocato un po', l'ho rimessi a posto per farvi vedere la confezione, macchia un po', vedete, lascia un po' di... Quindi se siete su una superficie pulita, troverete qualche macchietta di olio all'inizio. Eccola qua. Come vi dicevo, io questo l'ho già utilizzato un po', per farvi poi vedere come funziona. È made in China, sicuramente, però è tutta plastica, a mio avviso, di buona qualità, per il prezzo che ha. Ha due batterie a litio da 21 volt, 2 ampere, dati di targa, quelli che fornisce il produttore, un'ora e mezza per ricaricarle, quattro ore di lavoro. Io ancora, come dicevo, non l'ho provata sul campo, l'ho provata solo così in casa. Carica batterie per una batteria alla volta. Ecco, fate attenzione soltanto una cosa, quando la inserite, per caricarla, staccate la spina e vi si accende il led, dopo lo vediamo. Quando dovete sfilarla, ce la sicura, qui dietro avete lo sgancio, ecco, dovete premere e le viene fuori. Lo stesso sgancio poi servirà per toglierla dalle forbici. L'inserimento è semplice, c'è la slitta, non si può sbagliare, per togliere si preme, si spinge e viene fuori. Peso delle forbici, peso da solo 900 grammi, 300 grammi di batteria, circa un chilo e due, insomma, non è leggerissima. Allora, accensione delle forbici. Si accende il led. Ora guardiamo solo una panoramica delle funzioni principali e poi vediamo i dettagli. Le forbici rimangono chiuse, una lama si muove e l'altra è fissa. Per sbloccare, doppio clic sul grilletto, fa il bip e si apre. Questa è la massima apertura delle forbici, il massimo diametro che può tagliare di 30 mm. È molto reattiva, non è progressiva, quindi c'è on-off, non può dare un po' la volta, on-off e basta. La progressione la troviamo su altri modelli, costano un po' di più. Quando dobbiamo fare tagli veloci, è inutile fargli fare 30 mm di corsa. Sembrano veloci, ma quando si è lì magari a potare rametti da mezzo dito, da fastidio dover fare tutta la corsa. Allora c'è la possibilità di accorciare la corsa a metà. Si tiene premuto il grilletto per 5 secondi e fino al bip. Ecco, se avete visto adesso la corsa è la metà. Va da sé, eppure avendo la stessa velocità di chiusura, avendo una corsa minore da fare, ci si mette meno tempo. Questo per i tagli veloci. Per tornare come eravamo prima, con la massima estensione di taglio. Si tiene premuto fino al bip. Ecco qua, siamo tornati. Per chiudere le forbici bisogna tenere premuto fino al doppio bip. Saranno circa sette secondi. Ecco qua, forbice chiusa, tolta l'alimentazione. Eccola qui. Quindi doppio clic. Fino al primo bip teniamo premuto, accorciamo la corsa, chiudiamo tutto, aspettiamo il secondo bip. Chiusa. Sfiliamo. Volevo farvi vedere una cosa. Adesso l'ho accesa di nuovo. Qui davanti abbiamo il test. Se noi premiamo ci dice la quantità di carica residua. Ora abbiamo tre tacche, quindi è carica. Quando l'ho aperta prima o prima volta la confezione e ho montato le batterie, erano già cariche. Io ho provato solo a funzionare il carica batteria. Funziona. E tra un po' vi mostro come reagisce e che spie vi dà. Mi soffermo un attimo sugli accessori, quelli in dotazione con la prima confezione. Abbiamo la chiave esagonale per smontare la lama e la chiave a brucola per mollarla. Anche questa. Eccola qui. Per lubrificare invece abbiamo questa boccettina che a me è arrivata quasi vuota ma come vi dicevo probabilmente ha perso durante l'utilizzo o durante il trasporto. Non lo so. Ho trovato qualche goccia intorno. Quella si infilla direttamente qua dentro e si lubrifica. Ho dato un'occhiata alle istruzioni. Giustamente bisogna ripulire la lama e le forbici dalla polvere dopo che sia utilizzata. E il mio consiglio è quello di lubrificare leggermente con questo, con questo grasso universale. Il meccanismo interno è di dove poggia la lama giusto per evitare ossidazione e quant'altro se non la si utilizza molto spesso. Due parole su carica batterie. E' molto semplice non c'è nulla da premere da cliccare. Si inserisce la batteria comincia il ciclo di carica e dopo un'ora un'ora e mezza da spia diventa verde quindi la carica è completa quindi veramente elementare. Qui come vi dicevo c'è il meccanismo di sblocco. Allora sono davanti a una pianta di alloro. Loro è un legno molto morbido. Non fa testo ma è giusto per scaldarci un attimino. Ecco qua. Allora lasciato per adesso nella massima apertura perché poi mi devo spostare su diametri maggiori. Vabbè questo abbiamo scherzato dai. Vabbè è giusto giusto per scaldare la lama. Allora cominciamo con questo. Questo comincia ad essere interessante. Ecco qua. Vediamo un po' quant'è. Allora qui abbiamo un centimetro o 18 mm ok? Siamo a metà di quello che può fare questa forbice. Andiamo avanti. Ok comincio a salire un po'. Vediamo un po'. Siamo a 22 mm. Ne abbiamo ancora eh. Proviamo un po'. Siamo a 25 mm. Possiamo far di meglio. Dai che l'ho trovato eccolo qui. Eccolo qua. Questo è un bel ramo. Ecco. Mi avvicino e vi faccio vedere una cosa. Vedete? Sono al limite dell'imboccatura delle forbici. Oltre questo non va. Adesso vediamo se lo taglia eh. Ecco qua. Lo riprovo. Eccolo qui. Vediamo un po'. Allora 5, 3, 8. Eccolo qua. 30 mm di diametro. Eh sì. In effetti è il limite massimo perché avete visto ho dovuto fare più tagli perché le forbici non riuscivano a prenderla tutta insomma. Però è già un bel andare. Guardate mi sta in un pugno eh. Adesso voglio provare il taglio veloce. Ecco qua. Poi ci sposteremo sugli olivi eh. Adesso era giusto per vedere. Sono vicino casa. Ha piovuto tutta la notte quindi è un pantano per andare giù. Ok. A un certo punto se non la usate più sentite un bip. Lei va in stand by. Doppio clic e si riavvia. Adesso faccio modalità veloce. Ecco qua. Mezzo taglio. Vedete? Vediamo come va. Mi taglio un ramo. Mi avvicino. A voi. Ora voi mi direte. Sì ma hai preso un rametto sottile. È vero. Ho comunque immaginato che fosse uno dei rametti degli olivi quelli da togliere. Insomma. Era giusto per farvi vedere. Possiamo andare anche un pochino più su come diametro per vedere la velocità. Allora. Eccolo qua. Qui siamo come diametro. Giusto per renderci conto. Siamo sui 19 mm. 18 mm. E quindi va abbastanza bene. Dai. Ci spostiamo sugli olivi. Eccoci qua. Ovviamente sono solo. E quindi si muoverà un po' la videocamera. Mi dispiace. Allora. Comincerei da questo. Mi diverto come un bambino. Piccolino. Sarà un centimetro o qualcosa. Allora. Vedete. I rametti che vi parlavo ieri. Questo lo sto girando il giorno dopo. Sono questi qua. Non mi serve tutta l'escursione delle forbici. Allora. Chiudiamo un po'. Ecco qua. Ragazzi. Che spettacolo. Il tunnel carpale sta ringraziando. Ecco qua. Questo ramo qui è tutto da pulire. Vedete. Questo è l'ultimo. Vedete come si riesce ad andare abbastanza precisi con il taglio. Se c'è spazio ci si muove abbastanza bene. Con questa selezione di taglio veloce. Devo essere sincero. Molto veloce il taglio. Siamo a livello di un taglio manuale. Senza lo sforzo ovviamente della mano. Del polso. Ho questo ramo qui. Abbastanza. Sarà un centimetro e mezzo. Un paio di centimetri. Secco. Ecco qua. Un paio di centimetri. Allora sugli olivi non ho trovato rami grossi da tagliare. Anche perché mi si è dovuto arrampicare con la scala. E onestamente sono solo. Non ci penso proprio. Ho però quest'albero qui. Un albero di quelli che crescono da soli. Allora riporto la lama alla massima apertura. Allora vediamo un po'. 12 e 8. Possiamo far di meglio. 13. Lo portiamo fuori limite. Vediamo dove arriviamo. 13 e 8. Allora vi confermo. Se le forbici ovviamente non riescono a prendere il ramo. Va da sé che non riesce a tagliarlo. Quindi 30 e 32 al massimo di diametro. Di più non va. Bisogna fare il doppio o triplo taglio. Insomma è un lavoro che si può fare. Ma porta via tempo insomma. Eccoci qui giunti le conclusioni. Cosa vi devo dire? A me è piaciuta moltissimo come forbice elettrica. Devo essere sincero. Pensavo fosse pesante un chilo e due. Poi ho guardato le schede tecniche di marchi ben più blasonati. Parlo di Volpi. Ma parlo anche di Stoker. E mi sono reso conto che alla fine un chilo e due. E rientra perfettamente nella norma. Ad esempio c'è una Stoker in listino che costa tre volte tanto. E pesa un chilo e mezzo. E' progressiva. E' un altro prodotto per carità. Mi son trovato bene. Devo essere sincero. Le plastiche sono belle robuste. L'impugnatura è ergonomica. La mano non viene affaticata. Alla fine si tratta solo di premere un grilletto. E onestamente se devo rispondere alla domanda che mi faccio sempre. La comprerei? Sì. Questa la comprerei perché con 140 euro circa ho un prodotto ovviamente hobbistico. Ma che fa il suo lavoro. L'avete visto anche nel frutteto e nell'uliveto come si è comportata. Bene allora parliamo solo di soldi. Brevemente è un argomento che a me non piace molto. Però lo voglio affrontare perché vi può servire per risparmiare qualche soldo. Allora qui nelle note c'è un link affiliato. Nel senso che se voi acquistate tramite questo link voi avete il 5% di sconto su tutta la categoria forbici. Oltre che su questa e aiutate un po' questo canale. Altrimenti lo comprate direttamente sul sito. Non avete lo sconto del 5%. Va benissimo lo stesso insomma. Per risparmiare ulteriormente potete iscrivervi su Agri Euro. Vi iscrivete alla newsletter. È gratuito ovviamente. E vi danno subito uno sconto di 5 euro. Che si somma a questo 5%. Questo come primo ordine. Dal secondo ordine in poi avrete comunque un altro 5% di sconto. Che non è male. Quindi se volete risparmiare qualcosa potete cliccare qui sotto. Lo sconto del 5% tramite il mio link non è eterno. Dura poche settimane. Quindi se vi interessa magari potete farci un pensiero adesso. Vi potete guardare anche intorno con altri prodotti per carità. Bene vi ringrazio per essere stati con me anche oggi. Spero che questo video vi sia stato utile. Vi sia piaciuto più che altro. Per capire un po' come funziona questo genere di prodotti. Ne verranno fuori altri. Ne pubblicherò altri. Farò probabilmente una playlist a parte. Quindi se vi interessa iscrivetevi al canale. Poi cliccate sulla campanella. Così rimanete aggiornati su quello che pubblico periodicamente. Ci sarà anche l'approfondimento sul blog. Grazie per essere stati con me anche oggi. Vi auguro una buona giornata. Ci vediamo la settimana prossima.